Cari concittadini, buongiorno. Parliamo di riapertura di piscina comunale. Sabato prossimo, 23 settembre, alle ore 10, ci sarà il taglio del nastro, visto che comunque è stata affidata questa concessione per un lungo periodo, questo avvantaggio sia della stabilità dell'impianto, ma anche per i cittadini e per tutti quelli che vorranno frequentare questo impianto. Un grande risultato, abbiamo ottenuto condizioni economiche molto soddisfacenti, a mio avviso, questo è un momento particolare, sempre relativamente comunque al carro energia. Posso dire che siamo andati bene e che sabato mattina ci sarà l'azienda ad accogliere le vostre iscrizioni, anche le vostre domande. Con l'occasione poi vi invio adesso degli allegati, che sono i volantini, che abbiamo messo comunque distribuiti in tutta la comunità nostra di San Degidio. E quindi, niente, sono soddisfatto perché è un impianto meraviglioso, che tutti ci invidiano. E niente, ne parleremo insieme sabato mattina. Ci sono tante nuove attività, attività che prima non si facevano, ma che invece adesso sabato mattina saranno illustrate, nuovi programmi sia per i piccolini, sia per i ragazzi, che anche per gli adulti. E quindi, niente, ci vediamo sabato mattina 23 ore 10 e il nostro impianto natatorio è pronto per accogliervi a partire dal 23 fino alla fine dell'anno natatorio, come dicevo. Quindi, buona giornata e ci vediamo direttamente sabato mattina ore 10, 23 di settembre. Grazie.